E che ho? Ho che non ho un lavoro. Ho che non sono riuscita a comprare due costumi di carnevale per i miei figli. Così non sembra, Zorro. Sembra un anno quando va al cimitero. St'è fatta licenziare. E mi ha fatto licenziare pure a me. Io non capisco perché non lo lasci. Ma perché non la facciamo veramente una rapina? Se noi ci travestiamo da uomini, non ci troveranno mai. Non è l'olto! Questi erano dei professionisti dal sangue freddo. O sono svaniti? Li ho finizzati! Parmega è una banda di stranieri. Muso a terra, fottuto bastardo! Commissario Morandi, Gianni Morandi. Piacere, Don Baghi. L'abbiamo fatto il canto a gira. Sapevate che Elio Germano iniziò a far parlare di sé nel 2007 per la scena di nudo integrale nel film Nessuna qualità gli eroi? Nello stesso anno si aggiudicò il primo David di Donatello come miglioratore protagonista con il film Mio fratello e figlio unico. Vi piace Elio? In che ruolo vi ha convinto di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Vi ricordo come sempre che potete seguirci anche su TikTok. Trovate il link in info box. Ciao da Valeria. Ciao da Valeria.